In quel tempo, sospeso nelle nebbie della leggenda, quando la terra non si era ancora fatta tonda, un uomo cercava di carpire i segreti del cosmo. Il destino volle favorirlo, la realtà si frantumò, un nuovo universo prese vita, lande etere abitate da creature di luce, la città dei palazzi senza radici, l'impero delle macchine che vollero farsi dei, eroi e mostri, gli ordini volanti, il furore dell'ultima battaglia e poi l'amore di una dama e gli addii, la speranza che gonfia le vele verso mondi senza nome. Grazie per la visione!